In questo video parliamo di uno strumento estremamente utile nella gestione della posta elettronica, le etichette. Le etichette sono una sorta di contrassegno che possiamo utilizzare per categorizzare le nostre email. Ad esempio possiamo contrassegnare tutte le email di lavoro con l'etichetta lavoro, o tutte le email che contengono messaggi pubblicitari con l'etichetta pubblicità. Possiamo creare una nuova etichetta in vari modi. Uno dei più semplici è quello di cliccare Altro sulla colonna di sinistra e scegliere Crea nuova etichetta. A questo punto diamo il nome all'etichetta e clicchiamo Crea. Questa opzione permette di creare una nuova etichetta all'interno di un'etichetta già esistente, ma per ora limitiamoci a cliccare Crea. La nuova etichetta compare fra le voci del menu di sinistra. Nota che se il pannello di chat è attivo, potrebbe essere necessario abbassare la linea di separazione per fare in modo che la nuova etichetta rimanga sempre visibile. Per ora continuiamo a tenere le funzionalità di chat nascoste cliccando su questo pulsante in basso. Ora per assegnare l'etichetta ad uno o più messaggi, prima di tutto selezioniamo il messaggio o i messaggi e poi clicchiamo sul pulsante Etichette. Spuntiamo la casellina relativa all'etichetta appena creata e confermiamo con Applica. Tutte le email selezionate mostrano ora l'etichetta assegnata. Clicchiamo su questa casellina per deselezionare tutti i messaggi. Possiamo addirittura personalizzare il colore dell'etichetta. Spostiamo il puntatore del mouse sopra la relativa voce sul menu di sinistra, clicchiamo sulla piccola freccia che compare alla sua destra e scegliamo un colore. Al di là dell'aiuto visuale nella gestione delle email, un altro vantaggio nell'utilizzo di questo strumento è che se clicchiamo un'etichetta dal menu di sinistra, le email vengono istantaneamente filtrate per mostrarci solamente i messaggi a cui è stata applicata quell'etichetta. Torniamo apposta in arrivo per vedere un'ulteriore proprietà delle etichette. Se archiviamo qualche messaggio a cui è stata applicata un'etichetta, come sappiamo questi messaggi spariscono dalla casella di poste in arrivo, ma continuiamo a poterli recuperare molto facilmente con un semplice clic sull'etichetta. Ad ogni email possiamo associare una o più etichette. E per rimuovere un'etichetta da un'email, basta selezionare quell'email, premere il tasto Etichetta togliere la spunta dalla relativa casellina e confermare con Applica. Infine, per eliminare o modificare un'etichetta, ad esempio per modificarne il nome, basta cliccare sulla piccola freccia che compare quando il puntatore del mouse è sopra l'etichetta e scegliere la voce Rimuovi etichetta o modifica. Tieni presente che eliminando un'etichetta, le email archiviate non torneranno nella casella di poste in arrivo. Rimarranno archiviate e disponibili solo nella casella tutti i messaggi che troviamo fra le etichette nascoste. Ad ogni modo, l'utilizzo delle etichette ci può essere di grande aiuto per reperire velocemente determinati messaggi e anche per tenere in ordine il nostro account di posta. Grazie a tutti.